Buongiorno, aggiornamento di lettura di Ieri l'altro ieri, quindi il 23-24 ottobre. Prima di tutto, durante le giornate, ascolto gli audio libri, ho finito Camere separate, che proprio non mi è piaciuto. Mi sono fatta anche varie ricerche su internet per capire la rilevanza di questo libro, però comunque a livello soggettivo proprio non sono riuscita ad apprezzarlo, tanto più che dovrebbe essere proprio il mio genere, perché è un po' smoderno e proprio no per me. Poi, ho iniziato, vi avverto, che vivo per l'ultima volta, che mi sta piacendo tantissimo per certe cose e poco per altre, però comunque l'ascolto super volentieri. Durante le sere, invece, mi sono portata questi quattro libri, perché sono i libri della box indipendente di l'orme editore, e questa qui è l'ultima settimana in cui potrò leggerla. Ho letto di questo due racconti, mi sono piaciuti, ma uno dei due era lo schiaccianoci, quindi lo sapevo già che mi sarebbe piaciuto, non avevo visto che ci sarebbe stato, l'ho riletto, anche se sapevo, insomma, già tutta la storia. E poi ho letto Il caso del Ruga, sono andata avanti e mi sta piacendo sempre di più, è sempre molto più comfort per me, quindi perfetto.